Si chiedeva il permesso e ci facevano scaldare al forno. Toccava mettersi in lista. E si, eh. E c'era il posto, eh, si. Si andava a chiedere il permesso. Con che orario stiamo? 9, 10, 10. 8, un fornato e un giorno. Ci facevano lo torto di pasta, facevano il pizza, ci facevano il torco, ci facevano ogni cosa, tutto. Il pane, perché la gente allora non lo comprava il pane. Non c'era come adesso. Allora si faceva, durava 7, 8 giorni. E facevano tutti qui, il paese era tutti qui, eh.